Lo hanno chiamato sciopero al contrario, uno sciopero dove si lavora a beneficio della comunità. Sono alcuni, non molti per la verità, dei lavoratori della JEP di Colle di Nocera, invitati stamani dalla FIOM CGL davanti alla stazione di Gualdo Tadino per una mattinata di lavoro civico. Armati di ramazze scope hanno ripulito il piazzale antistante da foglie e carte sullo sfondo lo slogan Cassa Integrazione, no grazie, voglio lavorare. Tra loro le dirigenze del sindacato CGL e Camera del Lavoro, Alessandro Piergentili ed Edi Chirat. Il tutto alla vigilia dello sciopero nazionale del 12 dicembre e in attesa per i lavoratori JEP di capire quale sarà la loro sorte. Se infatti il progetto Porcarelli era partito due anni fa con l'acquisizione da parte dell'imprenditore marchigiano degli stabilimenti Merloni di Colle e Fabriane con l'intento di rimettere al lavoro gradualmente 350 lavoratori provenienti dalla vecchia azienda, tenendoli nel frattempo in cassa integrazione per quattro anni, le vicende giudiziarie che hanno di fatto annullato in primo e secondo grado di giudizio La vendita degli stabilimenti, si attende la cassazione e la congiuntura economica sfavorevole hanno fatto franare i tempi del progetto di rilancio industriale così che ad oggi i riassunti non lavorano in media più di una settimana al mese Si attendono buone nuove dal governo che ha confermato la presenza di un accordo tra le banche ricorrenti a giudizio sulla vendita e Porcarelli per dare certezza a questo progetto industriale sul quale pesa la spada di Damocle della Cassazione che potrebbe confermare l'annullamento della vendita ma quell'accordo su cui ancora vige il riservo del Ministero nelle parti trapelate su indiscrezioni non piace alla FIOM Sembra che ci siano i due capannoni di Fabriano a disposizione di Porcarelli e sullo stabilimento di Caifano, di Colle, ci dovrebbe essere un periodo di affitto che si aggirerebbe intorno ai 12 mesi non sappiamo l'entità dell'affitto, dei 12 anni scusate però questa è una cosa che ci preoccupa perché ovviamente Porcarelli nel 2012 ha comprato tutto quindi io non credo che oggi lui sia disponibile a dire procedo con una forma di affitto o quello che sarà quindi noi riteniamo che ci sia da fare chiaramente una verifica sia per la tenuta dello stabilimento ma anche per la tenuta dei 350 dipendenti della GEP perché dare a Fabriano siamo d'accordo ma se lì come pensiamo noi e spero personalmente di sbagliarmi se Porcarelli non voglia fare più i frigoriferi probabilmente qualche problema i 350 dipendenti ce l'avranno